per fare questo esercizio dobbiamo sdraiarci a terra su un fianco così come vedi nel video posizionare le gambe completamente distese con un piede sopra l'altro il gomito deve essere esattamente sotto la spalla e da questa posizione dobbiamo venire su con il bacino cercando di formare una linea dritta che parte dalla testa e arriva fino ai piedi da questa posizione dobbiamo prendere aria dal naso e a labbra succhiuse soffiare forte fuori l'aria dalla bocca finché non sentiamo lavorare gli addominali per migliorare ulteriormente l'attivazione degli addominali possiamo anche mettere un cuscinetto morbido all'interno delle cosce in modo tale da stringerlo durante la fase di espirazione cioè quando andiamo a buttare fuori l'aria